Nel profondo della notte, illuminato da verità, quando eravamo bambini la maggior parte dei nostri genitori ci colpiva con schiaffi, mestoli di legno, ciabatte di gomma, alcuni cinghiate. Mio zio invece frustate, pensate che mio zio avrebbe potuto fare il domatore di leoni. Quando eravamo a tavola, alcune volte ero invitato anch'io, se i miei cugini, che erano due, avessero fatto qualcosa che a mio zio non era congeniale, si beccavano la frustata. Pensate con che patema d'animo, con che patema d'animo, cioè questo veramente, si sedeva a tavola e aveva la frusta di fianco, aveva la frusta. Questo è frutto. Allora, mio nonno, che era il papà di mio zio, non mi ha mai sfiorato neanche con un dito. Mio nonno era una persona così brava in vita mia, io non l'ho mai avuta. E anche mia nonna, a tutti i miei nonni. Uno, sfortunatamente, non l'ho conosciuto. Però, però, quel gesto di frusta è il gesto di armarsi di qualcosa perché senza quella frusta, perché sennò l'avrebbe fatto, no? Quando uno fa un ragionamento bisogna pensare alla logica. Se lui fosse stato in grado di educare i suoi figli senza frusta, quindi con le sue buone parole, di far capire alle persone che sarebbero diventate grandi poi, no? I suoi figli, di far capire ai suoi figli che quella cosa era giusta per il tal motivo. Siccome lui non sapeva qual era il motivo, a sua discrezione frustava. Cioè, cazzo, è assurdo. Io non credo. Ed è un fattore veramente unico. Perché in vita mia, io non ho mai incontrato, in 60 anni di vita, non ho mai incontrato nessuno che andasse a tavola, quindi a famiglia di riunità, con la frusta. Con la frusta. c'è ancora qualcuno che dice, ah, la nostra mamma se non facevamo quello che dovevamo, ci picchiava con la ciabatta, ci picchiava col mestolo. Anche lì, la mamma non sapendo cosa fare, perché? Perché non aveva immagazzinato abbastanza esperienza per poter educare i propri figli in una maniera adeguata. Perché quando educo una persona, gli devi dire, non devi mettere le dita nella presa della corrente, perché? E gli spieghi tutta la storia. Quindi, quindi, da questo che cosa ne consegue? Che si crea una società fatta di persone che devono essere picchiate o devono essere comunque fregate o trattate male per far capire a queste persone che stanno facendo la cosa sbagliata e soprattutto che ciò nonostante c'è qualcuno che sta pensando a loro, perché la madre pensava ai figli, la madre forniva gli alimenti ai figli, il padre è la stessa cosa fuori, no? Allevavano i figli, allevavano, allevavano. Adesso io non sono del parere, non sono estremista, nel senso che magari qualche volta qualche calcetto nel sedere si può anche dare ai figli, perché i bambini, e si vede negli episodi che fanno quando spaccano le cose, c'è stato l'ultimo episodio di questi bambini in Francia che sulla metropolitana senza mascherina stanno timone in faccia agli altri, ma quelli sono gesti gogliardici per provare a chi sta intorno, per far vedere che loro esistono e sono capaci anche di starnutire in faccia agli altri. Che organizza le guerre? Avete mai sentito un telegiornale, un'attestata giornalistica o un programma televisivo che dice quei bastardi dei banchieri hanno nuovamente organizzato una guerra? L'avete mai sentito? No. I bambini che starnutiscono in faccia alle persone, che stanno facendo un'azione gogliardica che fa parte della loro stupidera, perché l'adolescenza è la stupidera. No? No. Sono presi dalla polizia scaraventate a terra. Ma stiamo veramente scherzando? Noi viviamo nel paradosso. E se non ci togliamo di dosso tutte le nostre colpe, perché sono colpe. Sono tutte colpe. I bambini che vanno a starnutire in faccia, certo che da stronzi farlo, però bisogna capirlo, sono bambini e chi se ne frega, no? Sono bambini. Sì, poi c'è il virus, ma i virus, meno male che ci sono i virus. Sapete quanti virus ci sono sulla nostra pelle? Virus che combattono i patogeni? Sapete quanti ce ne sono? Bisogna imparare, bisogna imparare. La mia idea, e l'ho già detto anche in altri filmati, che i ragazzi, i ragazzi, oltre a lavorare, perché non devono stare 9, 10, 12, 14 ore a scuola, devono stare a scuola 4 ore, 4 ore belle compresse, magari 4 ore di 40 minuti, fino alla laurea in giurisprudenza. E questo fa parte di tutto il discorso che deve essere la scuola. Quando uno esce dalla scuola, quando uno è maggiorenne e quindi quando può guidare l'auto, deve avere la possibilità di conseguire la patente di guida, perché a scuola hanno insegnato il codice stradale, perché il codice stradale è fondamentale, perché noi ci muoviamo, ci spostiamo con i mezzi. Perché ci devono essere le scuole guida? Per quale motivo ci devono essere? A scuola lo fai, a scuola, con tutti i soldi che spendiamo, a scuola bisogna fare questa cosa, a scuola. Di modo che le persone si possano muovere? Chi sono le persone, quelli che costano di più? Gli idraulici, perché l'idraulico nella sua vita viene da te una volta. Quante volte può venire un idraulico a casa tua? Quando viene lì, ti presenta la parcella. Gli avvocati, sapete quanti avvocati ci sono? E quanti idraulici ci sono? Ci sono 60 mila idraulici, pensate, ci sono 250 mila avvocati, 250 mila avvocati, sono quasi come i cacciatori, i cacciatori sono 700 mila, sapete quelle forze armate quante sono? 400 mila. Che cosa vuol dire? Che se i cacciatori si unissero tutti insieme potrebbero fare la rivoluzione perché hanno anche le armi e alcuni di loro hanno più di un fucile. Questo è un mondo veramente Sodoma e Gomorra al cospetto del mondo in cui ci troviamo. Negli Stati Uniti è ancora peggio. Le armi che vendono al supermercato. C'è la cultura lì del killer Smith & West. Smith & West è una marca di pistole Colt, che era la pistola degli sceriffi del Far West, che erano persone che provenivano da tutte le parti del mondo, in Europa in particolar modo, francesi, inglesi, che sono andati lì nella terra degli indiani e hanno sterminato gli indiani, che erano 100 milioni, almeno queste sono le informazioni che vengono date, e si sono appropriati della terra. C'è anche un film che dice che il governo degli Stati Uniti regala la terra, andate lì a prendervela. E se la prendevano come? C'erano dei punti di riferimento che arrivava prima, al punto di riferimento aveva guadagnato la terra. In un certo senso è anche giusto, perché quella era un'epoca era un'epoca rurale, l'economia era rurale. Il contadino vendeva tutto quello che riusciva a produrre, dagli animali agli ortaggi, ai cereali, ai legumi. Quella era l'economia. quindi era tutto basato su quello. Il sale, pensate, il sale arrivava dal mare, c'erano quelli che vendevano il sale, lo prendevano, lo portavano nel continente e in cambio prendevano l'olio. Lì c'è una strada che si chiama la via del sale. I liguri prendevano il sale e lo portavano su dopo le montagne, dopo le Alpi Ligure, l'Appennino Ligure. Lo portavano il sale dopo le montagne e facevano cambio con i frutti della terra che avevano quelli che stavano dall'altra parte, i piemontesi, i lombardi, gli emiliani, i toscani. È così che si estrinseca la società. Però chissà perché c'è qualcuno che dice tu hai venduto il sale al piemontese. Adesso mi dai una parte, mi dai il 70% di quello che hai guadagnato lo dai a me. Perché? Perché il 70% di quello che io ho guadagnato lo devo dare a me. Poi a me chi? Cioè lo Stato. Sì perché noi dobbiamo costruire le strade, dobbiamo costruire i ponti per far sì che tu ti possa muovere con il tuo sale sempre più agevolmente, sempre più velocemente e a velocità vorticose. Perché? Perché devono creare un'economia dal nulla. Io prendo esempio la Volvo. Qualche anno fa la Volvo non cambiava modelli così velocemente. Adesso i modelli delle autovetture ogni anno c'è un modello nuovo. Perché? Perché bisogna speculare. E se non hai l'ultimo modello sei un povero stronzo. Se hai le scarpe anche di marca ma non sono l'ultimo modello sei un povero sfigato. Se non hai il pantalone in jeans stracciato quello da 850 euro però quello con le borchie e i brillantini di quest'anno è meglio di quello dell'anno scorso. Quindi se tu hai quello senza brillantini vuol dire che è quello dell'anno scorso perché sono stronzo. Allora o noi cambiamo perché dobbiamo cambiare assolutamente. E incominciamo a comprarci i pantaloni. Perché io li compro. Arrivano dal Bangladesh. E arrivano dal Bangladesh perché in Bangladesh gli fanno fare i pantaloni perché la normativa del Bangladesh è quella. Non venite a rompere il cazzo. Ah ma tu sfrutti i bambini del Bangladesh. Ma quale bambine del Bangladesh? Cioè andate in Bangladesh e chiedete al governo del Bangladesh come mai è possibile fare quello. Io personalmente ho iniziato a lavorare all'età di 12 anni. Forse anche prima. Andavo a scuola durante la scuola nel periodo scolastico quindi fino a giugno. E poi da giugno a ottobre lavoravo. Qualsiasi tipo di lavoro. perché? Perché quello serve a capire che cosa vuol dire vivere no? Tu vai a lavorare hai soldi. Poi mia madre li sequestrava perché cosa sbagliata. È guai. Ho fatto una fatica poi a toglierlo lì. Mia madre era così. Lei era affascinata. Era avida. Era affascinata dal denaro. Il denaro è la giusta ricompensa per chi lavora ma deve essere considerato in sostituzione del baratto. Quindi non ti do più 10 conigli e tu mi dai due pecore. Tu hai le pecore, io te le pago. Io ho i conigli e tu me li paghi. Per una questione di comodità si adopera il denaro. Ma è il nostro comportamento che deve cambiare. Perché noi dobbiamo imparare a vivere risparmiando. E vivere risparmiando vuol dire che noi ci dobbiamo comprare un paio di blue jeans che costano 10 euro anche se arrivano da Bangladesh. Ma vi assicuro che anche se li dovessero confezionare in Italia non costerebbero molto di più. Perché il costo la materia prima? Alla fine è quello. Se in Bangladesh la manodopera costa di meno è anche giusto comprare la materia prima lì. Perché? Perché costa di meno. Ma se costa di meno tu fai un prezzo migliore. Io compro i blue jeans nuovi a 10 euro. E ve li faccio anche vedere perché li ho qua. Guardate. Eccoli qua. Questi non si vedono. Questi sono blue jeans. Eccoli qua. Nuovi. Vedete? Nuovi. Sono nuovi? Nuovi. E li ho pagati 10 euro. Vediamo se c'è il prezzo. Guardate. Se vi dico delle balle. Guardate. 10 euro. Capito? Non 800 euro quelli stracciati al cloro che dopo tre mesi che li metti si disciolgono. Dobbiamo imparare a diventare innanzitutto rispettevoli delle leggi. Perché se noi rispettiamo le leggi quei 250 mila avvocati perdono lavoro e vanno a fare altro. Quei 4 milioni di impiegati pubblici che servono al segretario del presidente che è presidente delle presidenze che però ci sono altri 4 presidenti e ogni ufficio ha un presidente. Perché? È così. È così che funziona lo schifo. È così che i parassiti ci drenano il sangue con quel qualcosa di illegale che si chiama tasse. Quello è un metodo di governo. Non è vero che le tasse servono per costruire ponti. E ogni volta che noi costruiamo un ponte lo dobbiamo fare perché deve essere un investimento. Se noi spendiamo 100 mila euro per un ponte, sto dicendo una cazzata perché per fare un ponte ci vogliono molto più soldi, ma vi faccio un esempio. Se noi spendiamo 100 mila euro per un ponte, il progetto deve prevedere che ne ritornino 200 o almeno 101. Cazzo!